Diciamo subito perché la salute è al primo posto e quindi Zemana sta bene. Io tra l'altro ho avuto la fortuna ieri di visitarlo in clinica, nella clinica Pierangeli. Devo dire che è sempre molto tonico, reattivo, ha affrontato benissimo e superato benissimo un intervento complesso, un intervento chirurgico che è stato eseguito proprio nella giornata, nella mattinata di lunedì dal dottor Guarracini, dal dottor Salute e dalla dottoressa Dorazio. Sarà costretto a lasciare il calcio, non gli sarà data l'idoneità necessaria per continuare questa attività, quindi per motivi di salute sarà costretto a lasciare il calcio. Zemana tra l'altro con un giorno di anticipo, il decorso post-operatorio procede molto bene perché con un giorno di anticipo ha lasciato la clinica, dovrebbe lasciarla domani, avrebbe dovuto lasciarla domani invece è stato anticipato ad oggi questa situazione qui che ha permesso a Zemana di lasciare la clinica proprio nella mattinata di oggi. Il Pescara in questo momento è stato affidato a Buccaro, Buccaro che è il vice di Zemana, è arrivato proprio un anno fa con il Boemo, molto legato al Boemo. Com'è nata questa decisione? Diciamo che all'insegna della continuità, c'è stata una lunga riflessione da parte dei dirigenti del Pescara, però è successo questo, è stato determinante il placet di Zemana. Una volta avuta la fiducia dalla società, Buccaro è andato a parlare col Boemo che era in clinica e il Boemo, Zemana, gli ha detto di accettare questa decisione della società e quindi altrimenti non avrebbe accettato Buccaro questo incarico e quindi credo che sia da sottolineare questo, soprattutto l'aspetto umano, l'aspetto professionale di Buccaro che è molto legato a Zemana. Adesso naturalmente si volta pagina, è importantissimo sicuramente dare una dimostrazione perché il Pescara viene da tre sconfitte consecutive, molto pesanti, non è servita evidentemente la lezione subita a Gubbio, perché il Pescara purtroppo si è ripetuto anche nell'ultima partita di Pesaro, ha incassato quattro gol, una brutta prestazione sotto tutti i profili, insomma la squadra sembra aver anche mollato mentalmente. Buccaro la deve rivitalizzare, sarà un bel banco di prova per questo allenatore che però non è un neofita, lo ricordiamo subito perché ha avuto tante esperienze in Serie C, ha anche vinto un campionato di Serie D nella 2018-2019 nel Lavellino con 11 vittorie consecutive, con la vittoria dello Scudetto di categoria, era subentrato ad Archimede Graziani stagione 2018-2019. Quindi diciamo che non è il classico vice che è stato promosso come capo allenatore, ha delle esperienze, è chiaro che adesso questo è un momento molto delicato per il Pescara perché bisogna invertire un trend. Sabato ci sarà questo debutto in casa, sulla panchina biancazzurra in casa contro la Lucchese, la Lucchese che è allenata da un ex calciatore del Pescara, Giorgio Gorgone, che ha indossato la maglia biancazzurra nella stagione 2003-2004, 16 presenze e un gol da gennaio-giugno 2004 in Serie B. Vedremo quello che accadrà, ti dico subito le ultime notizie. Intanto Merola è tornato in gruppo proprio nella partita, nella martinata di oggi e quindi sarà a disposizione di Bucaro sabato contro la Lucchese, sarà a disposizione anche Brosco che era influenzato ed è stato costretto a saltare l'infausta trasferta di Pesaro e tornerà a disposizione anche Aloi che ha scontato il turno di stop, causa squalifica. Ci sono novità anche in casa Pineto? Brevemente dico che Pineto intanto viene tra i risultati utili di fila, due vittorie e un pareggio con il nuovo allenatore Giovanni Beni che ha cominciato molto bene, dobbiamo dire, anzi ha impattato nel migliore dei modi. Non era facile, ci sta riuscendo, domenica c'è una partita importante sul campo della capolista, la capolista dei record potremmo definirla così, il Cesena di Toscano che ha perso solo una partita proprio all'esordio in questo campionato ad Olbia per 2-1. Olbia che si trova in una situazione di classifica molto ma molto delicata, intanto stiamo vedendo proprio la rete del successo con l'Olbia, un autogol di Bianchimano su cross di Volpicelli. La novità è che per la prima volta in una Lega Calcistica Europea, ne abbiamo parlato anche ieri, domenica prossima, sarà possibile vedere le immagini live riprese da una telecamera indossata dall'arbitro nella partita in programma proprio tra Cesena e Pineto. Inizio ore 15, il tutto però anche nella diretta della partita su Reteotto perché noi la trasmetteremo in diretta e quindi insomma è un onore per Reteotto perché c'è questa svolta storica, epocale, frutto di un accordo tra la Lega Pro e Sky Sport. Ricordo soltanto che il Pineto nell'ultimo precedente a Cesena ha vinto 2-1. Sono passati quasi cinque anni, era il campionato di Serie D, 24 marzo 2019, i gol di Tomassini su calcio di rigore e di Camplone.